Un lavoro strategico che sta facendo il Comune di Napoli con la città metropolitana, cioè quello di approvare una delibera che si chiamerà sicurezza bene comune, con cui affronteremo la sicurezza in città da ogni punto di vista, con misure concrete, in modo da mettere insieme cooperazione istituzionale, lavoro sull'edilizia privata e pubblica, strumenti amministrativi, strumenti finanziari e contiamo entro la fine dell'estate di approvarla perché siamo già in una fase molto avanzata. La delibera che sembra quasi un'evoluzione del vecchio progetto Sirena. No, ne parliamo quando non c'entra niente con Sirena. Sarà molto più bello. Un'evoluzione della specie, darwiniano. Le vorrei dire questo, proprio sul progetto Sirena, perché in Consiglio Comunale fu stato approvato qualche giorno fa un ordine del giorno che chiedeva il rilancio del progetto. Ne parleremo dopo perché la delibera va molto più avanti e quindi ne parleramo quando sarebbe. No, sarà, ripeto, come ho detto anche nell'incontro. Credo che riusciremo anche a mettere in campo delle risorse economiche, ma non con quell'approccio di Sirena. Un approccio molto più evoluto, molto più ampio, molto più strutturato, senza precedenti in Italia, che prevede strumenti giuridici, strumenti finanziari e quindi da questo punto di vista può far pensare ma se uno parla con una Sirena non ha capito nulla, ma non perché non capisce, perché giustamente non sapendo voi nel concreto di quello che stiamo preparando, quindi vi posso dire che ci saranno misure di incentivazione per l'edilizia privata, misure di sanzionamento per chi non si adegua alle ordinanze, misure finanziarie per creare un fondo con cui poter intervenire con l'ordinanza in danno e quindi questo può, diciamo, in qualche modo addirittura essere qualcosa di molto di più rispetto al progetto Sirena, che era un finanziamento solo per l'edilizia privata mentre qua è qualcosa che mette più in sicurezza la città che solamente un'opera di decoro e di abbellimento. Quindi devo dire che è un lavoro importante che stiamo facendo, io farò di tutto per approvarlo prima di Ferragosto ma sarà difficile, quindi mi sento di prendere l'impegno che entro il 21 settembre questa delibera sarà approvata e che poi presenteremo la città credo con una conferenza stampa perché è una cosa senza precedenti che sicuramente rafforzerà la sicurezza in città, metterà in circolo l'economia perché si tratterà di cantieri che si aprono, di professionisti che lavorano, di un'edilizia che ci piace e di lavoro anche per persone che magari in quel settore da anni non riesce a lavorare. Infatti stiamo lavorando in collaborazione non solo con le nostre partecipate, con gli ordini professionali, con l'ACEN, cioè sta venendo fuori davvero un lavoro imponente, importante, con una visione finalmente strategica. Il progetto Sirena era fatto in co-working con la Regione, adesso è comune e città metropolitane ma non perché non ci farebbe piacere avere delle risorse che la Regione tra l'altro dovrebbe dare però credo che il tema della sicurezza non può attendere i tempi della Regione.